Si svolgerà la prossima settimana, verosimilmente lunedì, la verifica di maggioranza richiesta nelle scorse settimane da tre consiglieri comunali di Palazzo San Francesco. Non uno scontro sulle persone, sulle posizioni politiche, ma un riesame necessario sulle modalità che finora hanno scandito l'attività politica dell'amministrazione comunale su più svariati temi, lavori pubblici, urbanistica, turismo, cultura, questione cogesa con risvolti imprevedibili. Nelle scorse settimane il PD e il Movimento 5 Stelle avevano difeso l'operato dei rispettivi consiglieri e assessori di Palazzo. Anche le primarie per le elezioni del segretario nazionale DEM hanno dato un segnale per la tenuta della maggioranza. Tuttavia la verifica è volta a rimettere al centro i valori l'etica della politica che erano stati posti alla base della coalizione che vinse le ultime elezioni amministrative. Il summit si svolgerà molto probabilmente lunedì, anche se stiamo aspettando un paio di conferme, spiega il Presidente nel Consiglio Comunale Cristiano Gerosonimo, che è il compito di convocare le forze di maggioranza, mentre a SBIC è stato affidato l'onere di mediare tra le varie posizioni.